buonasera sono urbano della sanni moreno Volkswagen Audi di Fucecchio oggi vi presento questa bella Peugeot 206 cabrio adatta veramente in primo luogo per la stagione estiva essendo cabrio molto bella ancora unico proprietario carrozzeria bella molto molto brillante sotto il profilo della verniciatura sotto il profilo delle definiture non ci sono cose particolari a parte una piccola ammaccatura sul portellone posteriore guardate vi faccio vedere ma è veramente piccolissima per il resto è veramente bella presentabilissima quindi dicevo intanto bellissima per il periodo estivo dopodiché molto bella anche per il periodo invernale perché non ha il tetto in tela ma il tetto rigido quindi viene come una macchina normalissima a livello accessoristico i suoi cerchi in lega ripeto appartenuta ad un solo proprietario una signora non fumatrice interni veramente spettacolari bella pulita non ci sono strappi non ci sono buchi di sigarette anche perché la signora non fumava un'altra cosa a livello di accessori il suo climatizzatore automatico il suo autoradio col cd display digitale chilometraggio 160 mila chilometri tutti originali cappottina elettrica come vi faccio vedere da questa sequenza guardate che spettacolo ci vuole 30 secondi per aprire la cappottina quindi molto comoda anche per aprire e chiudere quindi completamente funzionante regolare guardate qua che spettacolo viene fuori questa macchina nel periodo estivo è un 1.6 benzina unico proprietario fan di nebbia cerchi in lega ripeto clima automatico radio concilia già disponibile già disponibile presso presso di noi il nostro punto vendita quindi la potete già venire a vedere a provare a controllare a controllare a chiedere quindi non lasciatevela scappare perché in questo periodo si richiede veramente tanto una macchina del genere quindi se decidete di venire a vederla potete telefonare vi daremo già per telefono delle indicazioni specifiche su questa vettura oppure quando venite qua e la volete anche provare ve la facciamo naturalmente provare di conseguenza affrettatevi perché è veramente un pezzo unico quindi vi ringrazio per l'attenzione vi aspetto per darvi tutte tutte le informazioni che desiderate su questa vettura o su tutte le altre nostre proposte sull'usato vi ringrazio dell'attenzione a presto e grazie ancora